Ragazzi, ragazzi, nella mia pagina Facebook Calos di Nea Juventus stiamo volando siamo a 504 followers grazie ragazzi, abbiamo toccato quota 500 grazie a tutti, in meno di una settimana siamo arrivati da 400 a 500 followers io sono con voi, pubblicheremo in questa pagina tutto, foto antiche video e immagini, video e immagini vedendo di partite passate commenteremo praticamente con i miei video che faccio su YouTube per cui anche il canale su YouTube Calos di Nea Juventus commenteremo tutte le partite della Juventus pubblicherò anche gli altri YouTuber amici miei, li pubblicherò tutti sulla mia pagina insomma, in questa mia pagina ci sarà come al solito tutto ci sarà tutto anche interviste, post e partite di tutto di più quindi è una pagina dove io dedico ai tifosi juventini grazie per avermi fatto raggiungere 500 followers e cerchiamo di aumentarle anche su YouTube siamo fermi a 213 ragazzi, cresciamo anche lì perché se mi seguite sulla pagina Facebook seguitemi anche su YouTube sempre con lo stesso nome Calos di Nea Juventus ragazzi abbiamo toccato quota 500 grazie a tutti e sempre Forza Juve grazie a tutti